Ciao ragazzi! Eccomi di nuovo qui, come vi avevo promesso, oggi secondo video del giorno perché voglio riprovare a mettermi alla prova su Cookie Mama, ma questo video sarà una doppia sfida perché devo riuscire a terminarlo prima che arrivino a casa Lisa e Daniel da scuola perché appena arrivano inizia il disastro, iniziano a urlare, a fare un sacco di rumore, di tutto perciò fare gameplay, fare video per me da sola così è impossibile e quindi vediamo un po' se riuscirò a finire il video prima che suoni il citofono in teoria mancano solo 10 minuti al loro arrivo, quindi o confido un po' nel traffico oppure perderò la challenge allora avevamo sbloccato le patate come regalo e selezioniamole, ma qui mi fa usare solo queste non mi fa selezionare nient'altro, non ho uno strumento, una pentola, niente mangerò delle patate crude, sono solo 3 passaggi, ok, allora forse ce la posso anche fare ah, dicevo che è una doppia challenge perché la prima challenge sarà quella di riuscire a prendere 3 stelle da mama e dubito che ci riuscirò perché io se mi metto a parlare con voi, a commentare, a fare le battute, a fare la scema mi distraggo e quindi sbaglio però guardate un po' la mia intelligenza di oggi, almeno di questo video è stato quello di spostare la mia facciona qui da questa parte quindi di qua, insomma, in modo che non copro il timer e le indicazioni che mi appaiono da quel lato quindi vabbè, come sto da questa parte? come vi vedete? io vi vedo bene perché ho anche gli occhiali nuovi quindi vi vedo particolarmente bene allora dobbiamo tagliare gli ingredienti ok, affettiamo la patata vabbè, ma che cosa sto cucinando? una patata cruda farò perché non ho neanche una pentola per cuocerla me la mangio così vabbè, la sto facendo a bastoncini ok, sono riuscita a metterla tutta dentro non ho fatto saltare fuori neanche un pezzettino e quindi mama è contenta grazie mama questa volta non sono stata professionale con il microfono il microfono l'ho staccato, l'ho messo qua perché anche quello mi distraeva a tenere in mano sto coso quindi vabbè, non lo so come mi sentirete, spero bene e andiamo a oggi la friggitrice allora era questo lo strumento che avevo sbloccato la friggitrice non ad aria la friggitrice con l'olio bella grassa, bella frittosa allora, quando arriva sul blu, pronti ad alzare e via scolate, perfette, croccanti adesso manca soltanto un po' di sale e poi voi che ci mettete il ketchup, la maionese, la salsa barbecue con cosa le accompagnate le patate perché ci sono varie filosofie di vita per esempio Alissa le accompagna con l'actimel come voi sapete bene e come avrete sicuramente visto nel video dei pastrocchi di Alissa che è un po' di tempo che non facciamo non perché lei abbia smesso di pastrocchiare ma perché io ho smesso di filmarla mentre lo fa comunque dai, vediamo un po' che cosa abbiamo fatto una nuova ricetta e che cosa ho ottenuto il cerchietto con le orecchie da gatto questo mi piace, ne è balsa la pena fammi andare avanti, l'ho capito, è bellissimo ah, è sempre dietro la mia faccia le cose importanti stanno sempre dietro la mia faccia va bene, ricettario aggiornato vediamo un po' che cosa potrò cucinare la prossima volta in questo pacchetto che mi dai le carote ok, ok, va bene devo spostare la mia faccia scusatemi, mi metto qua tanto sto sempre dove do fastidio come nella vita reale chissà cosa mi fai preparare con le carote che dite ragazzi facciamo una prova proviamo, dai vediamo se riesco a fare addirittura due ricette prima che arrivino allora tagliamo, peliamo togliamo la buccia 3, 2, 1 e via ora non vedo il timer quindi ancora più difficile perché devo riuscire a prevedere eventuali ritardi poi anche in questo caso io vorrei non montare il video cioè, voglio far finta come se fosse una live come viene, viene e quindi anche con i tempi morti anche se non credo che ce ne saranno molti perché non sto zitta un secondo perché quando sono nervosa io parlo, 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 parlo visto che questa volta voglio riuscirci perché prima ho fatto una figuraccia pessima altrimenti ragazzi quando mi prendono gli esporti di cookie mama mai perché se faccio queste figure online no, no, ma qua quanti passaggi ci stanno non ce la farò mai vabbè, qui devo tagliare devo fare la stessa cosa che ho fatto prima scusate per la ripetizione però almeno così impariamo a tagliare bene le patate no, in realtà l'ho fatta diversa vedete, l'ho fatta un po' più grossa bei spicchiotti anche la carota la tagliamo a rondelle vediamo come la fai a tagliare no, a striscette sì, a striscette va bene tagliamo la carota a striscette no, non è vero cioè, non ne sto azzeccando una la devo tagliare pure questa a cubetti che cosa starò preparando? secondo voi? carota, cipolla patata un minestrone sto facendo no, dai, un minestrone no, per favore me l'hai fatto già preparare l'altra volta che mi ha fatto preparare il minestrone fritto che però mi sa che non ve l'ho mica pubblicato quel video sì non mi ricordo ve l'ho pubblicato il video del minestrone fritto? può darsi è possibile vabbè intanto mettiamo qui la cipolla e il cetriolo ah, allora, il cetriolo di solito non si fa cotto di solito si fa crudo il cetriolo ma ce l'ho fatta o ho finito il tempo? quante stelle mi dai? tre ok, dai, dai, dai sto andando bene forse riuscirò a superare questa challenge ora devo far bollire le patate e via dai bollite patate bollite che ho fretta che devo fare? che devo fare? devo abbassare la temperatura e alzarla al momento giusto per mantenere la faccina all'interno del range in cui lei è felice quello blu finché non sarà arrivato al termine della cottura dai, dai, dai corri, faccina corri, corri, corri questa temperatura non è non si mantiene facilmente poi sto giocando col mouse forse ogni tanto sentite click ok ho finito evviva comunque io ero convinta che mi avrebbe fatto fare delle ricette di San Valentino per quello io stavo qua ero già pronta a fare cose cuoriciose invece no sto schiacciando le patate bla 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 vai, schiacciamole per bene forse sto facendo degli gnocchi dai, secondo me sto facendo degli gnocchi potrebbe essere voi che dite? gnocchi però con tutta quell'altra roba no? che c'entra forse un purè forse un pasticcio un pasticcio con le patate comunque c'ho un riflesso bruttissimo della finestra ma ora non mi posso alzare perché non ho tempo e poi ho già detto che non voglio fare il montaggio quindi non voglio non posso interrompermi devo andare avanti the show must go on che poi se mi viene bene questa cosa la prossima volta faccio veramente una live mi metto live e cucino cookie mama o qualche altra cosa però si dai cookie mama mi piace mi diverto anche perché dopo io imparo veramente queste ricette e poi le preparo nella vita reale e mi vengono meglio nella vita reale a volte che qua anche nooo ho perso la challenge sono arrivati ragazzi devo aprire come non detto ragazzi non erano loro era il corriere Amazon che mi ha portato due pacchi e quindi sono ancora in gioco anche se per colpa sua ho perso questa sfida perché ho dovuto mollare tutto però posso ancora recuperare con l'ultima fase perciò adesso mettiamo questo questo impasto sblobboso qui nel piatto con tutti quei contorni che non ho preparato io li ho comprati pronti in rosticceria e via ma che cosa ci devo fare con sta roba ma che poi me la mangio aspetta ma io devo seguire devo seguire l'ordine ma che sto facendo uno due ma che vuol dire ma che vuol dire due uno due uno ah ne devo mettere il numero che mi dice lui forse ma che ne so ma che vuol dire ma che vuol dire non lo so non lo capisco oh vabbè vabbè mamma quanto mi dai tre stelle ok quando non capisco niente faccio bene allora complimenti ce l'ho fatta ragazzi ho preparato questa schifezza che non mi mangerei mai forse in prigione viene servita un'insalata di patate boh non lo so non mi piace comunque ho ricevuto due stelle quindi ho perso la sfida di fare tutto alla perfezione ma non per colpa mia ma per colpa di amazon e quindi adesso io mi prendo il mio punteggio mi prendo la mia nuova ricetta nel ricettario ok perfetto e vediamo se mi da anche un vestitino nuovo che così mi vado a cambiare no mi ha dato un forno grande ancora meglio ancora meglio chissà che cosa mi farà cucinare con questo forno però ragazzi lo scopriremo in un altro episodio perché per il momento mi fermo qua tra poco tornano i ragazzi e quindi torniamo indietro e mi vado a mettere il grembiulino nuovo se posso no il grembiulino aspettate avevo preso le orecchiette mamma mia sta faccia che fastidio sta sempre in mezzo allora eccoli qua oh ti togli Silvia ecco mettiti qua no che carina dai molto molto carina e come grembiulino avevo questo nuovo me lo metto rosa ovviamente oh adesso mi piace vediamo che capelli ho ho o le treccine o quello sì le treccine per ora restano le mie preferite e va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao